Sono Serena Ruggeri, Vicepresidente Vicario dell'Associazione Industriali di Cremona e oggi per noi è un vero piacere essere qui nell'azienda Sorti a condividere questo evento, soprattutto in un momento di forte crescita per l'azienda stessa. Questo dimostra che nonostante il momento difficile che tutte noi aziende stiamo attraversando, ci sono la nostra forza, la nostra volontà, la nostra determinazione di voler continuare, di voler crescere, è sempre presente in noi imprenditori. La ditta Sorti ha proprio dimostrato questo, presentandoci appunto il piano di sviluppo che loro stessi hanno e che porta ad una crescita nei prossimi anni. Crescita che però passa anche attraverso il personale, che purtroppo per noi è difficile trovare e diventa sempre di più un problema perché ci pone la difficoltà poi della competitività. Oggi siamo qua proprio con molto piacere per ringraziare anche la ditta Sorti e sottolineare ancora una volta quanto il nostro territorio è un territorio ricco di aziende, di imprese e che hanno una vivacità pazzesca e che si presentano poi al mondo nel migliore dei modi. Quindi auguriamo alla ditta Sorti un futuro brillante, ricco di soddisfazioni e ci auguriamo che tutta questa congiuntura negativa possa tornare ad avere un segno positivo per il futuro. Perfetto.